Ragazzi prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che abbiamo ripreso le giveaway dove regaliamo criptovalute gratis e quindi ogni lunedì annunceremo un nuovo vincitore della giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E voglio anche ringraziare tutte e quante le persone che si sono iscritte al canale e se siete nuovi e potreste considerare l'iscrizione se non l'avete già fatto sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille e buona fortuna a tutti per la giveaway e adesso cominciamo con il video. Ragazzi oggi vi mostro questo grafico e questo in realtà non è bitcoin rispetto al dollaro americano, questo è un grafico molto molto importante e parleremo anche di bitcoin sui tempi più brevi, parleremo a cosa prestare attenzione e parleremo anche del lungo termine per bitcoin. E ragazzi quindi buon Natale a tutti, mi chiamo Marco portando un video riguardo le cripto ogni giorno, mostrando come fare soldi in questo tipo di mercato e se siete nuovi e potreste considerare anche di iscriverti e fare anche la campanella sarebbe assolutamente fantastico. Ragazzi quindi cominciamo con i livelli di supporto e di resistenza perché ieri vi avevo detto che non siamo ancora fuori pericolo, che dobbiamo vedere il prezzo superare la fascia lancione verso l'alto prima di diventare bullish per bitcoin nel breve termine E come potete vedere stiamo ancora lottando per superare questa fascia lancione nel grafico da 4 ore e questo è il motivo per cui ve lo dicevo anche ieri perché sapevo che avrebbe colto di sorpresa molte persone questo livello a 50.000 dollari e 500 fino a 51.000 dollari e 600 E quindi potete vedere che abbiamo avuto un totale di circa forse 9 o 10 candele all'interno di questo importantissimo livello di resistenza E in realtà abbiamo cercato di superare questo livello un paio di volte ma finora abbiamo fallito E proprio come ho detto anche ieri sembra più un modello di consolidamento quindi potete vedere che in generale in realtà è un modello bullish perché abbiamo l'asta della bandiera proprio in questa zona E poi abbiamo anche il consolidamento insomma di seguito e questo di solito segue la tendenza, la tendenza per il momento adesso a rialzo Quindi sui tempi più brevi potete vedere che la tendenza è a rialzo adesso e questo potrebbe aiutarci a salire oltre il livello appunto della fascia lancione che abbiamo proprio qui Ma come ho detto appunto non è un livello da prendere alla leggera, questo è un livello molto molto forte e quindi non aprirei un trade fino a quando non supereremo questo livello verso l'alto E quindi questo è ciò che sta succedendo nei tempi più brevi e inoltre voglio anche parlarvi del grafico giornaliero perché se vi mostro il grafico giornaliero possiamo vedere che Dopo aver superato questi livelli di resistenza, questa linea lancione proprio qui e la linea rossa molto molto importante Sembra che stiamo trovando una certa resistenza nel bel mezzo del nulla nel grafico giornaliero ma ovviamente sappiamo che in realtà è dovuta alla fascia lancione nel grafico da 4 ore Ma a parte questo se estendiamo invece quest'altro livello che abbiamo verso l'alto, questo è anche un livello a cui prestarà attenzione perché se avremo un'altra salita mi aspetto che i 53 mila dollari andranno ad agire come resistenza E quindi sto solo estendendo questa linea che abbiamo già avuto anche in precedenza E un'altra cosa che voglio mostrarvi se togliamo invece tutte quante queste linee è che le istituzioni e i pesci grossi cercheranno di manipolare i mercati proprio ora durante le festività natalizie Ovvero in questi giorni di Natale perché il volume per adesso non è poi così alto quindi possiamo vedere che se abbiamo avuto un'aberrazione sui prezzi Non stiamo vedendo comunque sia molte candele verdi molto molto grandi in questo momento e quindi questo è qualcosa da considerare qui E se vi mostro anche il grafico nel grafico giornaliero questo VPVR potete vedere che abbiamo un volume molto basso proprio qui ma il volume grande sarà a 54 mila dollari e a 55 mila dollari E questo sarà un livello da considerare come resistenza e proprio come volume anche qui E infatti abbiamo anche una linea arancione che è a circa 55 mila dollari e 183 circa e questo è dove penso che il prezzo andrà perché avremo un grande movimento verso l'alto per Bitcoin E questo sarà un livello importante a cui presterà attenzione E inoltre invece se scendiamo se vediamo una discesa nel prezzo abbiamo ancora un livello di supporto a 45 mila dollari e 700 E ora ragazzi invece voglio parlare di un altro grafico e quindi questo è Bitcoin rispetto alla lira turca E ora la lira turca che è una voluta nazionale della Turchia sta vivendo un'iperinflazione e sta impazzendo proprio adesso E quello che potete vedere è che rispetto a Bitcoin o meglio Bitcoin ha guadagnato così tanto valore rispetto alla lira turca Potete vedere che dal crollo del Covid Bitcoin in realtà ha cresciuto di moltissimo E' cresciuto di un totale del 3.500% Ed è così ecco perché ovviamente molto molto più di quello che abbiamo visto fare Bitcoin rispetto al dollaro Infatti potete vedere che abbiamo raggiunto un nuovo massimo storico solo un paio di giorni fa Il 20 o il 21 insomma di dicembre In queste zone abbiamo fatto un nuovo massimo storico qui per Bitcoin e la lira turca E quindi perché vi dico questo? Bene ovviamente ciò che penso è che ogni valuta fiat andrà a questo punto Eventualmente Bitcoin è la forma più pura di riserva di valore Secondo me essi ovviamente probabilmente non vi darà quel 1000x o forse non vi darà un 100x Ma la parte importante è che non diminuirà rispetto alle valute fiat nel tempo A breve termine può succedere di tutto ma a lungo termine tenderà al rialzo Perché è la forma di denaro più pura, è la forma più pura di riserva di valore Ed è per questo che amo così tanto Bitcoin e ogni valuta fiat avrà lo stesso destino Della lira turca e tutte quante le persone in Turchia E questo è un fatto importante Tutti quelli in Turchia che hanno acquistato Bitcoin invece di tenere la lira turca Hanno fatto molti molti soldi Non hanno sofferto così tanto come le persone che tenevano la lira turca E quindi per tutti quanti turchi che invece avevano la lira turca E sono stati pagati con questa moneta Non hanno fatto così tanti buoni guadagni E inoltre ragazzi la Turchia sta implementando anche alcune leggi in questo periodo Quindi in realtà c'è anche una notizia che dice questo Quindi non sappiamo ancora cosa siano Probabilmente sarà un male per le criptovalute Perché la Turchia sa che le persone stanno cercando di migrare verso Bitcoin Proprio ora mentre la loro valuta nazionale sta scendendo verso il basso A caso della stampa di denaro o a caso degli altri venti Ma questo risveglierà le persone E tutti quanti capiranno che questo è il destino a cui andrà ogni valuta fiat Le persone che sono entrate presto in Bitcoin in Turchia Nemmeno all'inizio di quest'anno Ma parlo anche di una settimana fa O anche di un mese fa Qualunque cosa sia Finché hanno ottenuto Bitcoin Hanno fatto molto di più di una persona che invece ha tenuto i soldi in lira turca Che sta solo insomma perdendo valore in questo momento Adesso stop un attimo il video Vi spiego come partecipare alla giveaway Per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale E rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti Quale altcoin pensate che performerà meglio degli altri in questo ciclo Fatemi sapere nei commenti E inviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain Altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori E quindi ragazzi buona fortuna a tutti Adesso continuiamo con il video Ragazzi questo qua è quello che ho per voi Per questo video Insomma è un video abbastanza breve qui per Natale E grazie mille come sempre per la visione E per aver guardato questo video E come sempre ci vediamo nel prossimo Ciao a tutti